buongiorno buongiorno oggi è sabato 31 marzo la segna stampa in breve di video 33 nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione sarà un sabato all'insegna della pioggia e delle precipitazioni nevose anche oltre i mille metri di quota in regia abbiamo José Nunez allora con il suo aiuto andiamo a vedere quello che accade questa mattina alle 6 e 30 in Valle Eurina guardate scenario tipicamente invernale alle porte del piccolo centro abitato di San Giacomo neve neve a bassa quota per gran parte di questo sabato di fine mese ci spostiamo ci spostiamo sul Maccaion siamo alle porte del centro abitato di Bolzano le luci che intravedete tra le nuvole sono proprio quelle del capoluogo andiamo allora a vedere con l'aiuto sempre di José le aperture dei quotidiani ma prima una rapida occhiata anche alle previsioni meteo nel dettaglio la grafica grazie alle esperti meteo della provincia di Bolzano come detto nuvole piogge neve e temperature comunque in linea con le ultime 24 48 ore ci spostiamo nella vicina provincia di Trento identica situazione forse un lieve calo delle temperature soprattutto i valori massimi nel capoluogo nelle ore centrali cioè Trento avremo 11 gradi e allora come detto le aperture dei quotidiani a livello regionale e poi a livello nazionale il quotidiano Alto Adige la ASL assume 100 medici bandi per trovare pediatri anestesisti e ginecologi traffico ai cantieri il comune si affida al super consulente per il piano anti ingorghi la cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige Ulterberger apre a forza Italia sono moderati le sfope i mercoledì salirà al collo e Biancofiore si dice comunque cauta l'azienda sanitaria cerca 100 medici contratti stabili la cronaca cura del vicino Trentino con il quotidiano l'Adige Itas di Benedetto attacca l'ex presidente durissimo contro Consoli e Lorenz e poi Giardini Mozart e favorita comprati da Signoretti Ed Hager un affare da oltre un milione di euro trova e restituisce oltre 1100 euro il portafoglio di un artigiano raccolto per strada da un uomo di tesero tutto questo è accaduto a Cavalese e poi ci si occupa della cronaca con il Trentino dei punti nascita scontro riaperto per Cavalese 300 persone in piazza i sindaci dicono lotteremo fino alla fine brutta avventura anche se a lieto fine per una bambina germanica abbandonata sulle piste da sci del monte Bondone i genitori sono stati denunciati sono stati rintracciati solo dopo un paio di ore dalle forze dell'ordine sempre per la cronaca che arriva questa volta ancora dalla provincia di Bolzano la cronaca lingua teresca grazie al Dolomiten tradizionale prima pagina dedicata alle festività pasquali le parole le parole del vescovo Ivo Muser in occasione in occasione proprio della Pasqua ancora con la cronaca andiamo con la cronaca lingua teresca a cura del quotidiano Tagest Zeitung ci si chiede perché la provincia abbia deciso comunque di comprare autobus alimentati a gasolio quando il tema è quello di ridurre l'inquinamento atmosferico con il blocco dei mezzi diesel più inquinanti già ad iniziare dal prossimo anno il Corriere della Sera sangue sulla marcia a Gaza scontri al confine uccisi 15 palestinesi e poi per la politica italiana il Movimento 5 Stelle il 58 per cento vuole l'intesa con la Lega nessun leader per ora avrà l'incarico chiudiamo con il sole 24 ore sempre più pensioni in erediti degli italiani assegni mai di su del 31 e 6 per cento gli stipendi solo dell'8 e 1 per cento piano ambientale di Trump dagli Stati Uniti l'auto negli Stati Uniti potrà emettere più CO2 ancora una volta un motivo di contrasto con il resto del mondo è tutto siamo in chiusura ricordo gli appuntamenti da non perdere in provincia di Bolzano oggi è il giorno della gara delle paperelle porta fortuna lungo le acque del passilio a merano appuntamento curioso capace di attirare comunque numerosi meranesi e turisti il primo e il 2 di aprile il menù di pasqua presso a birra forst di lagundo il 7 di aprile l'inaugurazione del centro sportivo masoronco a caldaro è veramente tutto come sempre io vi ringrazio per scelto anche oggi l'informazione di video 33